Siamo in Canazza, questo alle nostre spalle è la chiese di San Pietro, uno dei simboli di un quartiere. Un quartiere particolare, 3500 abitanti separato dal centro e proprio sulla Canazza la Lega ha presentato una mozione che sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale. Il problema è la sicurezza. La Capogruppo chiede più sicurezza per gli abitanti, soprattutto anziani e bambini, che a quanto pare in questo quartiere non si sentono sicuri. Ma cosa sono i problemi della Canazza? Abbandoni di rifiuti, piccoli episodi di delinquenza, spiega la Lega. In verità la Canazza è un quartiere più tranquillo di tanti altri. Qui il problema più grande da quando è iniziato il lockdown forse sono i ragazzi che si ritrovano a giocare a pallone a fianco della casa di riposo a Corsi, che è in fase di ultimazione e sarà trasformata in un punto di riferimento per il co-housing cittadino. I problemi a Legnano probabilmente sono altri, soprattutto in centro, dove continua la stretta delle forze dell'ordine per cercare di tenere sotto controllo gli assembramenti dei ragazzi e gli episodi di microcriminalità, ma soprattutto di risse e aggressioni che avvengono soprattutto nel fine settimana, quando in piazza si riversano, zona rossa permettendo, tantissimi ragazzi arrivati anche dai comuni vicini.